ciao dolcezze ciao dolcetti nuovo video brush in camera e carezze richiesto super mega iper richiesto brush in camera io adoro il brush in camera quando lo fanno gli altri spero che piaccia anche voi ne ho già fatti tantissimi di brush in camera di video come questo brush in camera c'è la porta dietro quindi i vicini si sentono quando entrano in casa scusate ma non posso ammazzarli vicini insomma questo è un pennellino piccolo da blush della essence ed ha un sacco di tempo che non compro più niente della essence bellissimo bellissimo sto usando il cavalletto che mi ha regalato rosa anche se voi non lo vedete ma in tutti i video da adesso in poi anzi da ieri insomma userò questo cavalletto bellissimo grazie rosa ti ringrazierò come ringrazio sempre robbi robbici e laura bruzzone grazie a tutti quelli che mi fanno i regali che mi hanno fatto i regali che mi faranno i regali grazie alla amazon wishlist grazie valentina ancora ancora grazie che mi hai aiutato grazie mille grazie mille devo riuscire a mettere il cognome perché il corriere non mi trova mai solo quel nome sul campanello visto che ho il cognome sul campanello solo quel nome non mi trova quindi valentina se vogliate aiutarmi ancora un po comunque grazie per l'aiuto grazie che finalmente funziona l'amazon wishlist adesso le cose che mi avete regalato le devo cancellare perché se non rimangono lì se non le tolgo comunque grazie 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 brush 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 farò almeno 10 minuti di brush in camera brush in camera mi piace tanto quando lo fanno gli altri il brush brush col pennellino io ne ho tanti di pennelli così grossi così insomma morbidi bello il brushing con la capella rilassatevi non pensate a niente chiudete anche gli occhi certo chiudete gli occhi indossate le cuffiette gli auricolari per ascoltare meglio la mia voce calma appaccata e rilassante per voi per voi per voi brush in camera brush in camera brush in camera relax 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 bello rilassatevi 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 r pensate a niente va tutto bene va tutto bene va tutto bene va tutto bene tutto bene tutto bene sembra che chiamo un gatto bello questo brush in camera lento 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 sul cellulare vicino vicino al telefono vicino vicino al cellulare al vostro viso vicino 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 rilassantissimo rilassantissimo bello rilassante adesso cambio il pennello cambiamo il pennello prendiamo questo guardate che bello questo qui piccolissimo viola e nera bello morbido questo qui poi se volete faccio anche un po' di brushing sul microfono in un altro video bello questo pennellino piccolissimo vicino piccoccolo vi accarezzo con un pennellino vi accarezzo chiudete gli occhi chiudete gli occhi chiudete gli occhi chiudete gli occhi rilassatevi completamente rilassatevi la giornata è finita adesso dovete pensare solo a pensare solo a rilassarvi a chiudere gli occhi stare tranquilli se proprio dovete pensare a qualcosa sempre a qualcosa usare sempre la testa avere la testa in funzione pensate a cose belle a cose rilassanti a cose tranquille serene pacate calme rilassanti un bel laghetto di montagna una bella giornata di sole con gli amici una gregliata estate anche se l'estate è finita pensate a qualcosa di bello pensate a qualcosa di bello pensate a qualcosa di bello rilassatevi 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 sono i vicini che mi guardano dal balcone dalla strada rilassatevi 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 tutto va bene va tutto bene tutto va bene va tutto bene va tutto bene va tutto bene va tutto bene cambiamo ancora pennellino guardate qua questi qua e poi questo ve lo ricordate chi mi segue dai primi video dall'inizio insomma questo qui ve lo ricordate bellissimo questo rosa trasparente bello bello bianco e rosa guardate che bello guardate che bello movimenti circolari 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 carezze 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 spero che mi sentiate bene col microfono attaccato alla maglietta questo è bello grande come pennello prende tutto lo schermo tutto il vostro viso tutto lo schermo del cellulare lo prende bene bellissimo bello morbido sentite che meraviglia che morbidezza bello vero bellissimo lasciatevi coccolare da questo pennello lasciatevi accarezzare il viso da questo pennellino rosa bello morbido morbidissimo è una coccola veramente bellissimo come il massaggiatore di giada passarlo sul viso anche questo pennello è stupendo stupendissimo bellissimo 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 è rilassante all'altra mano è rilassante bello come le onde del mare immaginatevi di essere al mare se non ci vivete al mare se vivete in città immaginatevi di lasciarvi cullare dalle onde del mare dalle onde del mare le onde del mare bellissima 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 ragazzi spero che vi stiate rilassando dormite anche che è il momento di dormire anche adesso quindi potete anche dormire stare lì tranquilli che tutto va bene ci sono io qui per voi a rilassarvi farvi stare bene state tranquilli che va tutto bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti rilassatevi che tutto va bene domani sarà una bellissima giornata bellissima giornata bellissima bellissima giornata per voi sarà una bellissima giornata rilassatevi non pensate ai problemi adesso dovete solo dormire chiudete gli occhi chiudete gli occhi lasciatevi andare tranquilli rilassati accoccolati con le vostre coperte nel letto o su un divano su un divano dormite bene tranquilli coccolini dolcezze dolcetti dormite bene dormite bene dormite bene dormite bene io vi accarezzo finchè non vi addormentate sono sempre qui per voi voi dormite bene chiudete gli occhi chiudete gli occhi chiudese l'occhi chiudete le due las querendo le due aspette le due aspetta la aspetta sceglare e Buonanotte dolcezze dolcetti, buonanotte, 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 goodnight, 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 buonanotte, buonanotte, a presto, buonanotte.